Ok, direi che possiamo iniziare. Mi sentite bene? Alzo un po'. Se riesco. Boh, non lo so. Va bene. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questa parte del corso di paradigmi di programmazione dedicata a Python. Ok, quindi questo corso ha ben tre parti diverse, di cui questa probabilmente è quella più staccata dalle altre due, abbastanza indipendente. Le altre due, relativa a Java, c'è la parte più di teoria e la parte di laboratorio. Questi sono tre crediti dedicati interamente a un laboratorio su Python, chiamiamolo laboratorio però ovviamente avremo bisogno anche di vedere delle nozioni teoriche per imparare un po' a programmare in Python e soprattutto per imparare un po' il paradigma funzionale, ok? Usiamo Python come strumento per capire, comprendere meglio questo paradigma funzionale che è diverso dal paradigma ad oggetti, ad esempio, che state vedendo con Java. Faccio subito una domanda. Quanti di voi sanno già Python o sanno qualcosa di Python? Ok, una persona, due? Ma avete una conoscenza approfondita oppure solo un'infarinatura? Avevo studiato un po' in Python, non so, ho fatto un po' di tipi variabili, avevo fatto un po' di ammino. Ok, un'infarinatura, benissimo. Beh, ti tornerà utile, magari la prima lezione sarà un po' noiosa, ma poi vedrai che affronteremo cose un po' più avanzate. Due o tre informazioni riguardo la logistica di questo corso. Vabbè, io sono Alberto Mongerofarello, sono un ricercatore al Politecnico di Torino. Come ambito di ricerca mi occupo di Human Computer Interaction, quindi tutto ciò che concerne l'interazione tra gli utenti finali e i suoi dispositivi e servizi digitali. E quella è la mia mail qui di Uniupo, quindi per qualunque cosa potete riferirvi a quella mail. L'orario, allora, sono tre crediti, arrivando da lontano purtroppo per mia logistica ho dovuto raggruppare un po' questi tre crediti, quindi faremo a partire da oggi sei giovedì per delle quattro bellissime ore insieme di fila. Quindi da oggi per sei settimane ci vedremo qui, dalle nove alle tredici, ma cercheremo di fare, quattro ore ovviamente sono lunghe, non ho la pretesa di parlare per quattro ore di fila, altrimenti muoio io e anche voi, cercheremo di fare lezioni più interattive possibili, ok? Vi chiederò di lavorare molto. In linea di principio l'idea sarebbe che nelle prime due ore, due ore e mezza, due ore probabilmente non basteranno, vedremo delle nozioni di teoria che ci permetteranno poi, verso la fine di ogni incontro, di affrontare un laboratorio dove voi lavorerete in autonomia, io girerò tra i banchi e vi aiuterò se avete domande e dubbi. Anche tuttavia nelle lezioni, nella parte teorica, però vi sarà richiesto di lavorare per conto vostro, quindi parlerò un po', vi darò un esercizio, lo fate, lo risolviamo insieme, eccetera. Questo è vero, tranne forse questa prima lezione dove parlerò un po' di più, perché dobbiamo introdurre tutte le basi del linguaggio per chi non le sa, quindi ammetto che la prima lezione può risultare un po' più noiosa delle altre. Il programma. Divideremo il corso in tre blocchi principali. Oggi la prossima volta vedremo le basi del linguaggio, come ho detto, quindi un'introduzione al linguaggio Python, ai paradigmi di programmazione in generale e a quelli che si possono implementare con Python e poi vedremo le strutture dati, le funzioni, eccetera. Introdotto il linguaggio, la terza e quarta lezione saranno quelle più, credo, importanti dove affronteremo il blocco Python Functional, quindi il paradigma funzionale di programmazione funzionale in Python. Quindi impareremo a programmare in modo funzionale e vedremo tutta una serie di ingredienti, di concetti, tipo le higher order functions, i comprehension, generators, eccetera, che sono proprio gli ingredienti fondamentali della programmazione funzionale in Python. Qui c'è un errore, la lezione 5 la dedicheremo alla ricorsione in Python, ricorsione che è un aspetto di nuovo fondamentale della programmazione funzionale, probabilmente la ricorsione l'avete già vista in C, se non sbaglio, giusto? La vedremo declinata su Python. Nell'ultima lezione, se tutto va bene, faremo una simulazione d'esame, ok? Quindi quattro ore in cui le prime due proverete a fare quello che è un vero e proprio esame, nelle seconde due ore lo risolveremo insieme, ok? Domande, dubbi? Allora, per esperienza non sono tre crediti difficili, a patto che seguiate le lezioni e provate a fare gli esercizi. Se seguite tutte le lezioni e fate tutti gli esercizi che vi propongo, non ci sono problemi a passare questi tre crediti anche con un bel voto. Ovviamente se non seguite, se non provate a fare gli esercizi, lì è più impegnativo, ecco. Però non è che bisogna studiare chissà che cosa. Ecco, alcuni consigli per seguire le lezioni, vi consiglio di seguirle, soprattutto in laboratorio, ok? Provate qui, provateci a casa, ma provate a farlo. L'importante è provare a scrivere codice e fare esercizi. In laboratorio potete usare i PC del laboratorio oppure il vostro personale, è uguale. Sui vostri PC è necessario, diciamo consigliato, installare il software richiesto, che è Python ovviamente e PyCharm, che è un ambiente di sviluppo per Python. Sul sito del corso, vi faccio vedere, ho inserito un file, vediamo se riesco a... ok. No, forse è meglio che lo faccio prima di qua, poi lo metto nell'altra finestra, se no non vedo. Ok. Ce la posso fare. Dobbiamo far così. Ok. Sul sito del corso, nella sezione programmazione funzionale Python, ho inserito dei PDF dove ci sono tutte le istruzioni per installare questi due componenti sui vostri PC. Quindi, sia per Windows che per Mac. Ok. Sullo stesso sito caricheremo, caricherò le slide, ora siamo a Python Basic, i laboratori, ora sono ancora nascosti, ma poi li renderò visibili, e tutto il codice che faremo insieme. Sia il codice degli esempi, che farò in aula, il codice degli esercizi, che farete durante la parte teorica, che è la soluzione dei laboratori, la settimana dopo. Andiamo. Ok. Purtroppo, ho visto adesso che sui PC del laboratorio, non è ancora installato Python, la versione che utilizzeremo, né PyCharm. Chiederò dopo la lezione di oggi, di installarlo su questi PC. Non è un problema, perché vedremo che abbiamo la possibilità anche di usare un tool online, per scrivere direttamente del codice, in una finestra del browser, e per oggi possiamo usare questo strumento. Addirittura, volendo, anche per tutto il corso, se volete, si può usare questo strumento online. non è proprio necessario avere Python e PyCharm installati. Avere PyCharm e Python è più comodo, nel senso che vi permette di creare dei progetti in locale, di avere già i file sul vostro computer, mentre se scriviamo codice in online, poi bisogna scaricarsi il file, diventa più macchinoso. Ok? Quindi il corso è pensato per essere in presenza, ma questo è chiaro. Si riesce ovviamente ad avere un supporto maggiore in aula, perché io sarò qui, risponderò ai vostri dubbi, vedremo insieme le soluzioni degli esercizi, soprattutto durante la parte pratica. Registrerò comunque le lezioni, le renderò disponibili sullo stesso sito del corso, che vi ho fatto vedere prima, di solito se riesco, nella giornata stessa. L'esame sarà composto da due parti, una parte teorica su carta, dove non potrete usare nessun supporto, quindi PC spento, nessuna slide, nessun appunto, dove ci saranno una serie di domande, chiamiamole teoriche, ma anche una serie di esercizi su carta, per capire se avete compreso bene i concetti principali di Python, nella sua sintassi, di solito dura 45 minuti circa, e poi una parte pratica, di circa un'ora al PC, dove vi verrà richiesto di sviluppare, di solito tre esercizi, e di consegnarli, e di consegnarli, in questa parte pratica potete usare tutti gli strumenti che volete, quindi avrete accesso a internet, ai vostri appunti, a tutto, questo perché ovviamente, volete diventare programmatori, e i programmatori devono poter utilizzare, la documentazione, stack overflow, queste cose qui, non ha senso bloccare queste cose per un esame, perché quello che mi interessa, non è che impariate a memoria la sintassi, ma che sappiate programmare in Python, e come detto prima, nell'ultima lezione, facciamo una simulazione d'esame, Per comunicazioni, consulenze, prenotare un appuntamento, probabilmente online, arrivando da lontano, scrivetemi a questa mail, e fissiamo un incontro, dubbi, domande? Se non ci sono dubbi, direi che possiamo partire con Python Basic, Allora, il linguaggio di programmazione Python, è un linguaggio che è nato nel 91, grazie a quel signore lì nella foto, Guido Van Rossum, è stato definito, creato come un linguaggio general purpose, e di alto livello, a differenza di C, con cui possiamo arrivare a programmare, veramente più a basso livello, vedremo che con Python, riusciremo a fare delle cose, anche complicate, scrivendo poche, veramente poche righe di codice, infatti è un linguaggio conciso, che appunto, come ho detto, ci permette di avere delle istruzioni, molto molto concise, per fare cose anche complicate, il sito web di Python, è questo qui, dal quale potete anche scaricare, lo stesso Python, per poterlo installare, sui vostri PC, utilizzeremo Python 3, e non Python 2, ormai Python 3 è lo standard, Python 2 è una versione vecchia, però sappiate che ad esempio, su molti Mac, di default, è preinstallato Python, ma nella versione 2, quindi serve installare, la versione successiva, almeno per questo corso, questa è una prima differenza, con il linguaggio C, che avete visto, Python è un linguaggio interpretato, e non compilato, come lo è il C, quindi, a differenza di C, dove il codice, viene tradotto in linguaggio macchina, della macchina su cui sta girando, Python, il codice sorgente di Python, è convertito in un bytecode, si chiama così, che è poi eseguito, da una macchina virtuale, quindi c'è uno strato, in più rispetto al C, questo permette a Python, di essere facilmente, multipiattaforma, perché c'è questa, macchina virtuale, che astrae tutti i dettagli, di come lavora, quella determinata macchina, di conseguenza Python, è facile da sviluppare, ed eseguire, su macchine diverse, rispetto a linguaggio, come il C però, ovviamente perdiamo un po' in performance, quindi, è leggermente più lento, rispetto al C, in linea di principio, nella sua esecuzione, quando eseguiamo i programmi, quindi se dobbiamo fare, un'applicazione, per un sistema critico, che ha bisogno di, velocità, a quel punto forse Python, non è la scelta più giusta, ma C lo è, viceversa, se abbiamo bisogno di sviluppare, del codice più complicato, scrivendo meno linee di codice, un codice multipiattaforma, a quel punto Python, al giorno d'oggi, è la scelta, che va per la maggiore, infatti, come riporta questa slide, e del 2021, non è aggiornatissima, ma sicuramente Python, è uno, se non il più, il linguaggio più utilizzato, al giorno d'oggi, insieme a Java, C, eccetera, I benefici di utilizzare Python, sono molteplici, uno dei primi, è che Python, include già, nella sua libreria standard, quindi, tutta questa roba qui, vi viene dietro, a gratis, installando Python, ci sono già, più di 200 moduli, inclusi, in questa libreria standard, moduli, che vi permettono, di fare le cose, più disparate, dall'accesso ai database, a la creazione di grafici, eccetera, quindi tutti questi moduli, sono già inclusi, nella libreria standard, di Python, come si lavora, con questo linguaggio, ve l'ho già accennato prima, possiamo avere, gli ambienti di sviluppo, tradizionali, non so che ambiente di sviluppo, usavate per il C, code block, ok, code block, qui al posto di code block, abbiamo, PyCharm, ad esempio, quello che vi propongo, di installare, ma anche Visual Studio Code, anche Eclipse, ha una sua parte, per Python, sono tutti ambienti, di sviluppo tradizionali, dove, creiamo un progetto, sul nostro pc, con le varie dipendenze, eseguiamo del codice, eccetera, abbiamo però anche, dei tool online, come vi dicevo prima, uno di questi, è repl.it, ed è quello che utilizzeremo, che ci permette, di scrivere, ed eseguire velocemente, del codice Python, molto utile, se abbiamo degli esercizietti, da provare, anche insieme, si apre una finestra, del browser, si scrive codice, si clicca run, e tutto funziona, senza installare niente, un altro tool online, interessante, che utilizzeremo, è Python Tutor, Python Tutor, oltre a permetterci, di scrivere codice, ed eseguirlo, ci permette anche, di avere delle visualizzazioni, che ci spiegano, come Python, salva in memoria, le variabili, ci sono proprio, dei grafichi, li vedremo, in cui avremo, dei puntatori, delle celle di memoria, ed è interessante, perché ci permette, di capire, delle caratteristiche di Python, che anche, nell'allocazione di memoria, è molto diverso, dal C, ci sono poi, ad esempio, dei tool più interattivi, come computational notebook, non so se li conoscete, uno di questi è Jupiter, ma anche Google Qlab, sono degli strumenti, che permettono, di mixare insieme, parti di testo, con celle, dove c'è del codice, sono molto utili, ad esempio, per fare lezione, per fare analisi di dati, proprio perché, possiamo avere, una sorta di presentazione, dove c'è del testo, delle immagini, con all'interno, delle celle, che si possono eseguire, con del codice, purtroppo, non riusciremo, a vederli in questo corso, ma, magari, nella vostra vita lavorativa, li vedrete. Partiamo da PyCharm, non potete vederlo, su queste macchine, ma, ve lo introduco, rapidamente, come vedete, dalla figura, abbiamo, tre aree principali, la parte di progetto, sulla sinistra, dove c'è la cartella, del progetto, con i file, la parte a destra, in alto, dove c'è il codice, sorgente, dove potete scrivere, il vostro programma, e la parte in fondo, dove ci sono, la console, la parte per il debug, eccetera, facciamo una prova, provo, ad aprirlo, qui sul mio pc, vediamo se va, io ho la versione, education, la versione gratis, però, è quella community, quella che vi propongo, di installare, ma, non ci sono grosse differenze, in ogni caso, si apre questa finestrella qui, dalla quale possiamo creare, un nuovo progetto, new project, vedete qui, abbiamo, la location, cioè dove voglio salvare, questo progetto, lì sta a voi decidere, dove volete salvarlo, diamo un nome, a questo, progetto, chiamiamolo prova, vedete, io ho installato, python 3.9, e va bene, e creo, il mio progetto, allora vabbè, qui è nero, nel slider a bianco, ma è solo una questione, di impostazioni, vedete, sulla parte sinistra, ho la mia cartella prova, che è il mio progetto, all'interno della cartella prova, PyCharm, mi crea direttamente, un file, main.py, quindi, il file principale, del mio progetto, quello che, probabilmente lancerò, adesso, in questo corso, non faremo mai, progetti, che abbiano più di un file, ma potrebbe capitare, di averne più di uno, comunque, a noi, per il contesto, di questo corso, il file main, ci basta, qui lui lo riempie, con una serie di cose, che possiamo anche, cancellare, e qui nel file main.py, andremo a scrivere, il nostro, il nostro codice, adesso, semplicemente, provo, una print, la vedremo dopo, quindi, come è facilmente, intuibile, questa print, dovrebbe stampare, ciao, sulla console, cliccando, sul tasto, verde, qui, di run, vedete, si apre la console, e il programma, mi ha stampato, print, mi ha stampato, ciao, ok, quindi, la parte in basso, è dedicata, alla console, al terminale, agli strumenti, di debug, eccetera, questo era, PyCharm, come vi dicevo, però, molto utile, soprattutto per oggi, che non c'è PyCharm, è il tool, replit.com, nella slide precedente, era repl.it, hanno cambiato, un po' il nome del sito, ma non importa, andiamo a vedere, anche questo, vediamo se riesco, ok, questa è, è la schermata, che si apre, cliccando, su repl.it.com, è un po' incasinata, ma non vi spaventate, l'importante è trovare, il bottone create, che ci permette, di creare, anche qui, chiamiamolo, un progetto, clicco su create, vedete, il sito permette, di creare progetti, anche in altri linguaggi, addirittura in c++, noi selezioniamo, python, ok, diamo un nome, anche qui, al progetto, di nuovo prova, e clicchiamo, su create, create repl, repl, il nome del progetto, secondo la convenzione, di questo sito, anche qua, vedete che ci sono, tre parti, la parte più a sinistra, dove c'è il file main.py, quello che utilizzeremo noi, la parte in centro, è l'editor, quindi qui, scriviamo il nostro file main.py, il nostro codice, e la parte destra, è la console, quindi, di nuovo, se io scrivo, print, ciao, e poi clicco, sul pulsantone run, vedete che nella console, salta fuori ciao, tutto questo, si può fare, senza installare niente, sul proprio pc, se poi voglio, tenere traccia, buongiorno, del mio esercizio, beh, sicuramente, questo tool, questo sito, vi chiede di fare login, ok, quindi di creare un account, potete fare login, ad esempio, tramite google, quindi, tutti i vostri progetti, rimarranno online, quindi non li perdete, se volete anche, scaricare il codice, sul vostro pc, in locale, per avercelo, magari da qualche parte, potete cliccare, sui tre puntini, di fianco al file, e cliccare su download, scaricate il file, direttamente sul vostro pc, però in ogni caso, se voi tornate, nella home page, di repl, vedete, il vostro progetto, rimane comunque lì, quindi non lo perdete, questi sono i tool interattivi, che non vedremo, e questa è un'altra slide, importante, perché, oltre a tutti i moduli, che vi ho detto, arrivano gratis, già con la libreria standard, quindi già installando python, python è molto comodo, perché è utilizzato, da milioni di sviluppatori, e milioni di sviluppatori, rendono disponibili, le proprie librerie, a tutto l'ecosistema python, e quindi ci sono, una marea di librerie, già fatte per noi, che possiamo semplicemente, installare, sul nostro pc, ed importare, ed utilizzare, queste librerie, fanno di tutto, a partire dalla, computazione scientifica, quindi abbiamo, numpy, shipy, alla data analysis, python è molto usato, nel campo del machine learning, per fare analisi di dati, visualizzazioni, eccetera, ad esempio, alcune librerie, molto famose, in questo campo, sono pandas, tensorflow, di google, per fare machine learning, eccetera, eccetera, però il concetto è, che, anche per fare cose, complicatissime, probabilmente, c'è già una libreria, che fa per voi, quindi, devo fare un grafico, di una serie di dati, molto complessi, in C, probabilmente, dovrei scrivere, 80.000 righe di codice, forse non riesco neanche a farlo, in python, c'è probabilmente la libreria, che in due istruzioni, ti permette di fare, un grafico, complicatissimo, e questo è un esempio, fatemi provare a, farvelo vedere, se riesco, lo vado solo a copiare, ok, ho aperto un altro tool, interattivo, che è google qlab, non lo utilizzeremo, ma solo per farvi vedere, che in questo tool, abbiamo la possibilità, di mixare testo con codice, questa che ho aperto qui, è una cella di codice, vado a, incollare questa serie di, di linee, sono poche, che ci permettono, di visualizzare in real time, i dati del covid-19, presi da questo repository, su github, se io lancio questa cella, vedrete, vedrete forse, che con pochissime righe di codice, saranno una decina, ora è molto lento, non so perché, buongiorno, ah, voi non lo vedete, perché devo fare mirror, scusate, ok, vedete, con questa serie di 10 righe di codice, sono veramente poche, riesco a visualizzare, con una visualizzazione anche complicata, dei dati, in questo caso relativi al covid, estratti da un database, da un repository online, però vedete, che tramite una libreria, due librerie, pandas e seaborn, riesco a fare queste cose qui, con 10 righe di codice, immaginate fare dei grafici così, in C, ma già anche in java, diventa difficile, quindi questo è uno dei motivi per cui, Python è molto usato anche per analisi di dati, visualizzazioni, eccetera, domande fino adesso, fermatemi pure, se avete domande, allora, se possiamo andare avanti, vediamo adesso un'introduzione, ai vari, paradigmi di programmazione, che possiamo avere, probabilmente queste cose, un po' le avete già anche affrontate, nell'altra parte, ma non fa male, rivederle nell'ottica di Python, allora, possiamo avere tre, direi, paradigmi di programmazione principali, in generale, quello imperativo, quello funzionale, e quello object oriented, vabbè, l'imperativo è quello, un po' legato al C, ad esempio, questo paradigma, si focalizza, sul dire al calcolatore, come fare, una determinata cosa, come faccio a dire al calcolatore, come fare una determinata cosa, gli dico passo passo, tutto quello che deve fare, quindi, sequenzialmente, il mio PC farà, una serie di istruzioni, che gli ho detto, che ho scodificato, tramite, tramite codice, quindi, il programmatore, dice esplicitamente, al computer, come fare, a fare qualcosa, quindi, utilizzando, istruzioni, come i loop, le if, eccetera, che vengono eseguite, un passo per volta, questo era il mondo C, ok? Abbiamo poi, il mondo object oriented, che è quello che state vedendo, nell'altro modulo, Java, qui, il focus è, sulla organizzazione del codice, che viene reso, il più riutilizzabile possibile, come raggruppando il codice in oggetti, che sono delle entità base, che si possono riutilizzare, in vari punti del programma, quindi, gli oggetti possono contenere dei dati, dei metodi, e gli oggetti vengono istanziati, a partire da una classe, quindi, abbiamo queste classi, che possono essere, istanziate n volte, e questo ci permette, di riutilizzare, oggetti della stessa classe, in più punti del programma, senza dover scrivere, tutte le volte, i suoi metodi, quello che interessa a noi, è il paradigma funzionale, quello che vedremo con Python, qui, piuttosto che focalizzarci, sul dire al computer, come fare le cose, ci focalizziamo, sul dire al computer, cosa fare, ci penserà poi lui, a decidere, come farlo, quindi, utilizzando, delle funzioni, noi diciamo, al nostro computer, che cosa, il risultato, che vogliamo ottenere, l'output, che vogliamo ottenere, quindi, bisogna cambiare un po', mentalità, rispetto agli altri due paradigmi, ma poi, quando si impara, un po', a ragionare, in modo funzionale, vedremo che, risolveremo le stesse cose, con molte meno linee di codice, facciamo un esempio, che può, chiarificare meglio, quello che ho detto, programmazione imperativa, diamo, degli, step, espliciti, al computer, utilizzando, gli statement, che già, conosciamo, questo, ad esempio, è, un programma, sviluppato, in modo imperativo, fatto in python, perché vi anticipo, che python, non è un linguaggio, puramente funzionale, ma, è un linguaggio, multi paradigma, cioè, con python, possiamo, fare un po', quello che vogliamo, sta a noi decidere, che paradigma, utilizzare, questo programma, è fatto in modo imperativo, che cosa fa, questo programma, secondo voi, anche se non conoscete bene, la sintassi, si, stampa, abcde, ok, ma, prima di stampare, che cosa fa? Esatto, prende, vedete che c'è, la prima riga di codice, e una lista di caratteri, vedremo dopo le liste, il programma, semplicemente, prende ogni elemento, di questo contenitore, che sono le varie lettere, e le concatena tutte insieme, creando una stringa, e poi la stampa, vedete qui, diamo step by step, le istruzioni al pc, in modo imperativo, è chiaro questo? Ok, lo stesso programma, fatto però, col paradigma, object oriented, che si focalizza, sugli oggetti, in questo caso, sempre fatto in python, potremmo avere, una classe string ops, che ha un costruttore, init, un metodo di inizializzazione, che cosa fa quel metodo? Prende la stringa, che avevamo, la lista, scusate, di caratteri, characters, che avevamo prima, e se la tiene in pancia, in characters, quindi qualcuno, istanzia la classe, e passa questa lista, al costruttore, e poi, questa stessa classe, ha un metodo, strconcat, che fa esattamente, la stessa cosa, si crea una stringa, a partire dalla lista, qual è il vantaggio, di avere, una classe del genere, è che se io, in più punti, del mio programma, magari anche in file diversi, ho bisogno, di effettuare, questa operazione qui, ok, beh, mi basterà creare, un'istanza di questa classe, e, l'istanza di questa classe, mi, proporrà, mi darà, questo metodo, strconcat, che farà, quello che deve fare, quindi posso riutilizzare, il codice, scrivendolo una sola volta, programmazione funzionale, stessa cosa, fatta, prima, vedete qui, di quanto si riducono, le linee di codice, addirittura, noi riusciamo a fare, quello che abbiamo fatto prima, con una sola riga di codice, la 4, tramite queste funzioni, e in particolare, la funzione, reduce, riusciamo, a, prendere, una lista, characters, e a trasformarla, in una stringa, ora, non vi preoccupate, se non capite ancora, la sintassi, però, questo per farvi capire, che vedete, che qui non diciamo, come fare, al calcolatore, a fare questa conversione, noi diciamo, che vogliamo fare, una riduzione, una riduzione, di una lista, a una stringa, e c'è la funzione apposta, e la uso, ok, quindi, in questi tre crediti, ci focalizzeremo, su questa roba qui, cercheremo di imparare, a programmare, in modo funzionale, purtroppo, per fare questo, dobbiamo partire, un po' dalle basi, e qui, viene la parte noiosa, la parte dove, vi introdurrò, le varie sintassi, gli elementi di base, del linguaggio, del linguaggio python, partiamo da, proprio dalle basi, da quello che si fa vedere, sempre, quando si inizia, un nuovo linguaggio, di programmazione, l'hello word, questo è, l'hello word in c, questo è l'hello word in python, vedete già, alcune differenze, no? Innanzitutto, non c'è nessuna include, nessuna import, non ci sono parentesi graffe, non c'è un main, ok? Questa è un'altra grande differenza, mentre nel, con c, siamo forzati ad avere un main, che è il punto di ingresso del programma, la funzione che esegue il calcolatore, quando il programma viene lanciato, in python questo non c'è, non c'è una funzione main, vedremo che, python inizia ad eseguire un file, dall'inizio, quindi lanciamo un file, e questo file viene eseguito, dalla prima riga in avanti. Questo è un commento in python, si fa con l'hashtag, va bene, roba base, dicevo prima, che, molti linguaggi di programmazione, hanno una funzione speciale main, che è eseguita automaticamente, quando il sistema operativo, lancia questo, il programma, l'interprete python, non ha un main, esegue uno script, partendo, dall'inizio di un file, quindi non c'è una funzione main, che viene eseguita automaticamente, alcune volte, potreste trovarvi, questa sintassi qui, che, simula, il main, simula questa cosa, di avere, una funzione di, di ingresso, quindi, se vi trovate davanti, questa if strana, sappiate che, è, un trucchetto, per simulare il fatto, di avere, un'unica funzione di ingresso, questo viene fatto, controllando la variabile, di sistema, underscore, underscore, name, underscore, questa variabile, di sistema, per un file python, che viene eseguito, a questa variabile, viene sempre associata, la stringa main, che vedete lì, e quindi, è un modo per, controllare questa variabile, e, eseguire, una funzione, di main, modo per simulare il main, però, si può anche non avere, non è, non è obbligatorio, queste sono alcune keyword, principali di python, le vedremo mano a mano, ovviamente, non potete usare, queste keyword, per definire delle variabili, ma questo mi sembra, ovvio, variabili che si definiscono, in questo modo, language name, uguale, python tra apici, che differenza notate, rispetto a c, java, non abbiamo dichiarato il tipo, in python, il tipo non si dichiara, si arrangia lui, ad associare, un tipo, alla variabile, a seconda del contenuto, vedremo poi come, questa è una delle grosse differenze, di python, python è un linguaggio, non tipizzato, rispetto a c, java, eccetera, quindi, l'assegnamento delle variabili, però, si fa come in c, con l'uguale singolo, il nome delle variabili, potete usare quello che volete, la convenzione, però, è questa, avere le variabili, tutte in minuscolo, separate da, un underscore, quando volete, dividere due pezzi di nome, quindi, language name, c'è l'underscore in mezzo, ma è una convenzione, potete anche, usare le maiuscole, se volete, il compilatore, ve lo lascia fare, l'interprete, ve lo lascia fare, quella a destra, è una stringa, perché è una stringa, perché è tra apici, ma le vedremo in dettaglio oggi, ok, esempi di variabili, la prima è sempre una stringa, la seconda, 3.7.0, è una, sempre una stringa, vedete, ho usato gli apici singoli, ma non cambia niente, è sempre una stringa, il terzo è un numero, il quarto è un booleano, quindi una variabile che può contenere, solo vero o falso, l'ultimo che cos'è? È sempre un numero, però vedete che è scritto tutto in maiuscolo, questa di nuovo è solo una convenzione, quindi non cambia niente, come scrivete il nome, ma per convenzione, le variabili scritte tutte in maiuscolo, sono delle costanti, però per convenzione, quella variabile lì può cambiare, potete assegnarla a un altro valore, non è una vera e propria costante, però un programmatore che programma in python, se vede una variabile in maiuscolo, dice, ok questa è una costante, non la tocco, ok? Va bene, questo è quello che abbiamo detto adesso, ve lo metterò online, un esempio, di codice, per definire variabili, molto semplici, quello che voglio dirvi, è che con la funzione type, potete dinamicamente, capire di che tipo è una variabile, vi faccio un esempio, vado su repl, chiudo un po' di cose, ok, il mio repl di prova, va bene, definisco una variabile, ad esempio nome, uguale il mio nome, posso capire il tipo, visto che python è un linguaggio non tipizzato, posso chiedere direttamente a python, che tipo è la variabile nome, come con la funzione standard type, se io scrivo print type, della mia variabile, ok, magari faccio anche un po' di zoom, vedete, mi dice che, la mia variabile nome, è di tipo stringa, d'accordo? Però attenzione, la mia stessa variabile nome, posso riassegnarla, a un'altra cosa, ad esempio a un numero, niente me lo vieta, se io adesso scrivo print type di nome, vedete che da stringa, la stessa variabile nome, è passata a diventare un intero, questo ovviamente in C non lo potete fare, non potete assegnare un intero, una stringa, eccetera, o viceversa, in python, non abbiamo la tipizzazione, quindi, viene calcolato tutto a runtime, quando vedete nelle slide, se riesco, ok, questi rettangoli blu, con un file punto py, questo vuol dire che, sul sito del corso, troverete un esempio, chiamato proprio così, in questo caso, è semplicemente un esempio di utilizzo, della funzione type, è molto semplice, quindi, approfondiamo un po' questa cosa, in python, tutto è un oggetto, ok, le variabili, sono semplicemente, un riferimento a questi oggetti, quindi, qualunque variabile, si può riferire a qualunque oggetto, abbiamo visto, la variabile nome, come si riferiva prima, chiamiamolo, un oggetto, la stringa Alberto, ma, abbiamo potuto, facilmente, far riferire, la stessa variabile, ad un altro oggetto, un numero, quindi, quando dichiariamo, una variabile in python, non specifichiamo il suo tipo, perché python, è un linguaggio tipizzato, dinamicamente, il tipo della variabile, è salvato, con l'oggetto stesso, ma, vediamo adesso, tra poco, una rappresentazione visuale, che vi farà capire, allora, supponiamo di avere due variabili, a uguale a 1, e a uguale a 2, se pensiamo a linguaggi di programmazione tradizionali, come il c, potremmo pensare ad a, come una locazione di memoria, scusate, ho detto due variabili diverse, la stessa, che viene riassegnata, possiamo pensare ad a, come una locazione di memoria, che prima contiene il valore 1, una cella di memoria che contiene il valore 1, e poi viene sovrascritto col valore 2, giusto? Questo nel mondo C. Questo non è come funziona in python, piuttosto, A è un riferimento, che inizialmente, referenzia un oggetto col valore 1, ok? Quando facciamo la riassegnazione, la stessa A, che è sempre un riferimento, viene riassegnata a un altro oggetto, quindi a un'altra locazione di memoria, non la stessa, che contiene il valore 2. Questi due oggetti, ed è importante, possono continuare ad esistere, anche se A non li referenzia più, ok? L'oggetto 1, anche se A non punto più a quell'1 lì, continua ad esistere in memoria, perché magari c'è un'altra variabile, che punta anche a 1, noi non lo possiamo sapere, ok? Cerchiamo di vedere questo in modo visuale, forse sarà più chiaro. Esempio, variabile fu uguale a 5, in memoria, abbiamo, il mio, la mia variabile, fu, che è un riferimento, ad un oggetto in memoria, questo quadrato qui, che contiene che cosa? Due informazioni principali, il suo valore, 5, ma anche il suo tipo, un intero. Poi definisco un'altra variabile, bar uguale 6, ok? Allora, avrò un altro oggetto in memoria, che contiene il valore 6, di tipo intero, che è puntato dalla mia variabile bar. Adesso dico bar uguale fu. Cosa succede? Succede che, bar adesso punta allo stesso oggetto, a cui puntava fu. Vedete? La freccia da sotto è passata verso sopra. La cosa importante, è che l'oggetto, prima puntato da bar, quindi il valore 6, continua ad esistere in memoria. Adesso, cosa succede se io dico fu uguale a allo, una stringa, secondo voi? Ok, si crea un altro oggetto che contiene allo, e fu punta ad allo. Mentre bar, ovviamente, continua a puntare al valore 5, ok? Anche se ho detto, fu uguale allo e bar è uguale a fu, bar però continua a puntare al 5. È chiaro questo? Vedremo anche poi degli esempi più avanti. Quindi Python, lavora su oggetti, e le variabili sono dei nomi per questi oggetti, quindi sono dei riferimenti a questi oggetti. E questo è anche il modo con cui Python riesce a capire dinamicamente di che tipo è una variabile, perché il tipo della variabile è salvato con l'oggetto. Quindi basta vedere l'oggetto a cui punta in quel momento la variabile, e in automatico Python sa dirmi, ok, hello, una stringa, e il valore 5, un intero. Operazioni aritmetiche, vabbè, queste sono le classiche, addizione, moltiplicazione, divisione, divisione intera, quindi due slash, l'esponenziale, il doppio asterisco, l'operatore di modulo, cosa fa l'operatore di modulo? Dovresti saperlo. Restituisce il resto della divisione intera, perfetto. E questi sono alcuni dei tipi principali di Python. Abbiamo visto Python, con Python possiamo anche lavorare ad oggetti, quindi possiamo anche definire le nostre classi, i nostri tipi, però questi sono i tipi built in di Python. Abbiamo i numbers, possono essere degli interi, dei float, quindi numeri con la virgola, numeri complessi, non li vedremo in questo corso, ma ci possono essere. Poi abbiamo le sequenze, che vedremo in dettaglio, penso, la prossima volta. Le stringhe sono delle sequenze, perché le stringhe sono una sequenza di caratteri, le liste, ne abbiamo vista una all'inizio, le tuple, ne sono una, struttura dati, che è una specie di lista, ma ha delle caratteristiche diverse, le impareremo. E poi altri tipi, tipo i booleani, vero o falso, i dizionari, li vedremo in dettaglio, i dizionari permettono di salvare, delle coppie chiave valore. Pensiamo alla rubrica, dove abbiamo nome e numero, insieme di nome e numero, fa la rubrica, la rubrica è un dizionario. i set, che come in matematica, non possono contenere duplicati, i file, li vedremo forse, vediamo se abbiamo tempo, le funzioni, le funzioni stesse, sono un oggetto, in python, e poi c'è questo, none, che è una keyword particolare, che identifica, l'assenza di valore. Quindi per definire un valore nullo, o una variabile che, magari al momento, non contiene ancora nessun valore, possiamo usare la keyword none. Altro concetto importante, che tornerà durante il corso, mutabile e immutabile. Tutti gli oggetti in python, possono essere o mutabili, o immutabili. Un oggetto mutabile, può essere cambiato, dopo la sua creazione. Ok? Un oggetto immutabile, invece, non può essere cambiato, può essere creato, una sola volta, e basta. I tipi built in, tipo i numeri, interi, float, boolean, ma anche le stringhe, le tuple, sono immutabili. Li creo una volta sola, se ho bisogno di modificarli, li devo ricreare, da zero. Altri oggetti, altri tipi di oggetti, tipo le liste, i set, i dizionari, sono invece mutabili, si possono modificare, dopo la loro creazione. Le classiche, che creiamo noi, non in questo corso, in generale sono mutabili. Facciamo degli esempi. dicendo che, il valore, di un oggetto immutabile, non può cambiare. Ad esempio, vediamo qui, abbiamo, poi lo impareremo dopo, ma users, che è una tupla di dizionari. le tuple si definiscono, con le parentesi tonde. Vedete, c'è una tonda all'inizio, una tonda alla fine. Questa tupla ha due elementi. Il primo, delimitato da queste due parentesi graffe, è un dizionario, id1, nome Alberto. Il secondo, id2, nome Luigi. Allora, noi sappiamo che, le tuple sono immutabili, i dizionari sono mutabili. Ok? Allora, è vero che la tupla è immutabile, ma gli oggetti che essa contiene, in questo caso, possono cambiare. Quindi, se io dico, users, a posizione 1, si parte da 0, quindi posizione 1 è il secondo, id2, name Luigi, di nome, ok? Vedete questa notazione con la doppia parentesi quadra? Quindi sono qui, non vi preoccupate se non sapete ancora i dettagli della sintassi. Voglio cambiare questo nome da Luigi a Marco. Posso farlo? Sì, lo posso fare, ma solo perché il dizionario è mutabile, cioè può essere modificato. E infatti, mi stampa prima, la prima printa mi stampa Luigi, la seconda Marco. Adesso supponiamo di avere questa tupla, di nuovo, una tupla che contiene tre elementi, tre stringhe in questo caso, tre frutti. se io mi accorgo di voler cambiare il frutto a posizione 1, le arance, voglio cambiarle in pere, beh, mi avrebbe da dire frutti di 1 uguali per. Posso farlo questo? Domanda retorica. No! perché? Perché le tuple sono immutabili, le stringhe pure. E quindi se io provo a fare una cosa del genere, l'interprete si incazza, mi stampa una bella eccezione tutta rossa, e il programma si blocca. Quindi questa è la differenza tra mutabilità e immutabilità. Però avendo, potendo avere anche strutture dati complesse, quindi strutture che contengono altre strutture, bisogna sempre andare a capire che cosa stiamo cercando di modificare. Ok, detto questo, torniamo un attimo ai numeri. I numeri sono immutabili, quindi possiamo avere un intero, che può essere grande a piacere, i float, numeri con la virgola, quindi ad esempio 1.5, 0.5, anche i numeri in notazione esponenziale sono dei float. Quindi se avete una variabile uguale 2 e 8, 2 alla 8, quello è un float, non un intero. E poi possiamo avere i complessi, ma non li usiamo. Gli interi possono essere arbitrariamente grandi, e va bene, possiamo anche definire numeri in esadecimale, in ottale, usando questa notazione qui, ma di nuovo, questa cosa non la utilizzeremo nel nostro corso. Le if è proprio una carrellata un po' sparsa di cose. Facciamolo live, così è meno noioso. Ovviamente se volete potete anche provare a fare quello che faccio io voi sul vostro pc. Allora, blocchi condizionali, le if. Definiamoci due variabili, a uguale 5, b uguale 10. Voglio controllare se a è maggiore di b, ad esempio. Allora scrivo, if a maggiore b due punti. Prime differenze col c. Non abbiamo le parentesi tonde, neanche quella graffa, abbiamo i due punti. Neanche punti e virgola. Esatto. Clicco a capo, invio, e vedete che in automatico, non so se riuscite a vedere il cursore, ma in automatico il cursore è stato spostato sulla destra, di quattro spazi. Allora, questi spazi sono fondamentali, non è come in C in cui potete indentare il codice un po' come volete, fare tutto in colonna, poi non si capisce niente, eccetera. Quindi l'indentazione è importante python è fondamentale, perché è quella che divide i vari blocchi. Quindi adesso, ho scritto i due punti, sono andato a capo, tutto quello che c'è, quattro spazi a destra, incolonnato, sarà il blocco che verrà eseguito in quella condizione lì. Quindi, se io qua scrivo una prima print, a e maggiore di b e poi una seconda, vedete che lui in automatico me l'è in colonna, ed è giusto che faccia così, perché queste due, scusate, sì, volevo scrivere, queste due print devono essere eseguite insieme, giusto? E quindi fanno parla, se questo è vero, devo stamparle entrambe. E il modo che Python ha per capire che deve stamparle entrambe, è proprio il fatto di avere per entrambe quattro spazi davanti. Per C c'erano le graffe, qui ci sono gli spazi. Sì, ovviamente a non è maggiore di b, scusate, invertiamo. A è maggiore di b? Sì. Se io facessi una cosa del genere, vedete che mi dà già un errore, perché sto indentando male il codice. Sotto a due punti di una if, bisogna per forza andare quattro spazi in là. E questo è il blocco di questa condizione, A maggiore di b. Se vogliamo controllare delle condizioni in più, possiamo avere o una else generale, quindi se non è vera la prima cosa, eseguirò quello che c'è nella else, o se vogliamo specificare più cose, possiamo avere la elif. E l'if ci permette di specificare una condizione aggiuntiva, quindi se A è maggiore di b, fai questo. Altrimenti se A è minore di b, beh, stamperò print A è minore di b. Se vogliamo mantenere lo stesso formato di prima, facciamo così. Ok? Quindi abbiamo il caso maggiore, il caso minore, ce ne manca solo più uno, e allora ci basta dire else. Se non è maggiore, non è minore, sarà per forza uguale. Vedete però che abbiamo i blocchi condizionali spostati, incolonnati, e invece questa è l'if è ovviamente a livello della if sopra, no? Perché si riferisce a questa if qua. Quindi con questa indentazione qui riusciamo a dividere le varie cose. Però devono essere esattamente quattro spazi. Ve li metto in automatico il tool online, anche PyCharm ve li metto in automatico quando cliccate invio, però ovviamente se togliete questi spazi poi non funziona più. Domande? Ok. Vabbè, questo è quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Altro concetto fondamentale. I booleani, truti e falsi. Abbiamo visto che c'è una variabile, c'è un tipo di variabile booleana che può contenere due valori, giusto, vero, falso, si scrivono così, true con la lettera grande, false con la lettera grande. Tuttavia, le stesse espressioni con operandi e operatori possono essere valutate vere o false. Quello che mettiamo in una if, ad esempio, deve essere valutato vero o falso. Giusto? L'espressione A maggiore di B deve essere valutata vera o falsa dall'interprete per poter dire che cosa eseguire. quando un'espressione viene valutata come true, tipo prima A maggiore di B, in gergo Python viene detto che questa espressione è truti. Ok? Quindi A maggiore di B prima per noi era truti. Quando viene valutata falsa invece, tipo A minore di B nell'ILEAF questa è falsi. D'accordo? Ok. Facciamo una prova. Due uguale uguale a uno. Che cos'è? Falsi. La seconda? Truti. Non importa se c'è apice doppio o apice singolo fa lo stesso. La terza? Ok. Truti. La quarta? Falsi. Ok? Quindi c'è una end quindi entrambe dovrebbero essere vere. E l'ultima invece è truti. Ne basta una. Quindi se facciamo queste print qui avremo false, true, true, false, true. in gergo python falsi, truti, truti, falsi, truti. Non solo le espressioni con anche complicate possono essere valutate ve, truti o falsi ma anche gli stessi valori singoli possono essere valutati. E qualunque oggetto può essere testato in un contesto booleano. Che cosa si intende per contesto booleano? Ad esempio quello che c'è in una if. Ok? Quindi un'espressione che viene valutata per decidere che cosa eseguire. I valori che trovate qui elencati sono tutti falsi. Quindi il numero 0, 0, 0.0 se valutate in un contesto booleano restituisce false, false, un'espressione false. La stringa what è false, il valore false ovviamente è false, anche l'assenza di valore è false, none, e lista vuota, tupla vuota, dizionario vuoto sono tutti falsi. Tutte le altre cose invece sono truti. È chiaro? Quindi se io dico, facciamo un esempio, se io definisco a uguale a 0 e voglio in qualche modo controllare il valore di a e dico if a che cosa stamperà questa roba qui? a è false if a quindi a è vera no perché contiene il valore 0 il valore 0 è valutato come false e quindi a è false questo è molto utile per ad esempio controllare le stringhe che ne so supponiamo di richiedere all'utente i suoi anni no? Per qualche strano motivo l'utente non ci dà l'input e quindi anni è stringa vuota noi possiamo se vogliamo forzare l'utente a darci un input possiamo controllare il valore anni quindi come potrei fare potrei dire if not anni dico all'utente per favore inserisci gli anni ora manca tutta la parte per prendere l'input però è solo per farvi capire perché è utile poter controllare le variabili singole quindi mi faccio dare qualcosa dall'utente ad esempio e se lui non me lo dà io gli stampo un messaggio di errore è chiaro perché c'è la not perché se la stringa è vuota io voglio stampare un messaggio d'errore ma se la stringa è vuota è valutata come falsi e per eseguire questa if devo avere una condizione vera quindi if not anni per favore inserisci gli anni attenzione truti e falsi sono ovviamente diversi da true e false per esempio print allora non l'ho introdotta prima ma bull è una funzione booleana è una funzione standard che si può usare per valutare direttamente un'espressione ci ritorna vero o falso a seconda se l'espressione è truti o falsi ovviamente print bull di 5 ci restituisce true perché 5 diverso da 0 ma ovviamente 5 non è uguale a true quindi se io stampo 5 uguale uguale a true false ok nonostante 5 sia truti quindi bull di 5 è true ma ovviamente 5 non è uguale a true 5 è un numero true è una variabile booleana è un valore booleano va bene primo esercizietto per voi ditemi che cosa stampa questo programmino avendo visto le if e il concetto di true e falsi senza provarlo ovviamente cioè solo guardando la slide qualcuno che ci prova qualcuno dice B siete tutti d'accordo stampa solo B lui dice B e D perché B e D perché B e D la output è B e basta perché if 7 truti entriamo dentro if lista vuota e quindi facciamo la else print B e basta perché siamo entrati nella if 7 quindi nella if e nella else nella elif e nella else non c'entriamo più ok secondo che cosa stampa questo qualcuno che ci prova di B e C B e C o B e D B e C è giusto perché B e C perché a differenza di prima adesso abbiamo due if indipendenti prima era un unico ramo qui ne abbiamo due indipendenti vedete allo stesso livello ci sono due due if la prima if 1 vero if none falso e quindi andiamo nella else e stampiamo B la seconda if lista col valore 0 ora è vero che 0 è falsi viene valutato come falsi ma questa in realtà è una lista con un elemento lo 0 quindi non è una lista vuota ma è una lista con un elemento e quindi è vera e quindi stampiamo C questi forse un po' semplificati ma neanche tanto sono un esempio di esercizietto che potete trovare nella prima parte dell'esame quindi non è che facciamo cose mega complicate domande? quindi dentro la parentesi quadra indica il numero cioè il numero di elementi che sono nella lista no dentro la parentesi quadra ci sono gli elementi quindi qui c'è un unico elemento lo 0 ma avrei potuto avere ad esempio 0,5,7 quella era una lista di tre elementi ad esempio liste che sono sequenze e questo mi permette di introdurre questa cosa allora in Python le sequenze sono un termine generico per indicare un insieme ordinato di elementi ci sono diversi tipi di sequenze quei tre più importanti che vedremo noi sono le stringhe le liste e le tuple ci sono delle operazioni che si applicano a tutte le sequenze ad esempio il più come abbiamo visto all'inizio con catena quindi date due sequenze se ci mettiamo la più in mezzo il risultato è la concatenazione delle due sequenze si può fare con le stringhe ma anche con le liste il pair ripete una sequenza quindi se noi abbiamo facciamo questi due esempi partiamo dalle stringhe la prima stringa ciao a tutti io posso dire print stringa uno più stringa due che cosa fa il più le con catena e infatti le mette insieme ora ho dimenticato uno spazio perché vedete che non c'è allora posso dire stringa uno più spazio più stringa due ciao a tutti ok questo è il più il pair viene utilizzato con una sequenza per un numero stringa uno per tre che cosa stamperà ciao 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 ok questo si fa con le stringhe ma anche con le liste se io una lista con zero uno due e un'altra lista con tre quattro cinque chiamiamola lista uno lista due di nuovo posso fare ad esempio lista uno più lista due vedete ha stampato un'unica lista che è la concatenazione di lista uno e lista due oppure posso fare lista uno per tre ripete tre volte zero uno due zero uno due zero uno due in un'unica lista altre operazioni che si possono fare su tutte le sequenze controllare se un elemento dimmi è possibile moltiplicare gli elementi interna della lista per tre zero tre sei sì tu dici moltiplicare per tre ogni elemento sì si può fare vedremo come ovviamente c'è la versione imperativa quella di scorrere la lista valore per valore moltiplicarlo per tre vedremo anche la versione funzionale con ad esempio la funzione map possiamo mappare una funzione che automaticamente moltiplichi per tre ogni valore della lista quindi sì si può fare lo vedremo a breve altra operazione su tutte le sequenze controllare se un valore è presente oppure no in una sequenza con la parolina chiave x elemento in sequenza restituisce vero se elemento c'è falso altrimenti alle sequenze possiamo accedere in modo posizionale quindi con sequenza parentesi quadre indice numerico possiamo accedere all'iesimo carattere di sequenza anche come in c si parte da zero quindi il primo elemento è a posizione zero uno due tre possiamo anche partire dal fondo dicendo meno indice quindi sequenza tra parentesi quadre meno due prendiamo partiamo dal fondo contiamo meno due e quello è l'elemento a cui facciamo accesso tutte le sequenze possono essere sliced che è un concetto che vedremo tra poco ci sono anche funzioni che possono essere usate con tutte le sequenze l'en di sequenza mi restituisce un numero che è la lunghezza di quella sequenza quindi se io provo a stampare print len di lista uno mi dirà tre lista uno è lunga tre ok poi possiamo anche avere la funzione index quindi se io dico index ci ritorna la posizione di un elemento nella lista se quest'elemento c'è quindi se io dico print lista uno punto index di un numero ad esempio due lui mi dovrebbe dare la posizione del valore due all'interno di lista uno che è sempre due zero uno due va bene e infatti mi stampa due se gli do un numero che non c'è eccezione vedremo anche come gestire queste eccezioni comunque ci dice questa eccezione che il 76 non è nella lista se abbiamo più di un valore due nella lista e cerchiamo il due ci restituisce solo la prima occorrenza ok quindi il primo due poi possiamo avere min e max ci ritornano il minimo il valore più piccolo il valore più grande all'interno della sequenza e anche il count che ci dice quante volte c'è quell'elemento nella sequenza ok questo era quello che si applicava a tutte le sequenze ora vediamo più in dettaglio le stringhe che ore sono si abbiamo ancora un po' di tempo come dicevo prima apici doppi apici singoli si possono usare in modo intercambiabile fa lo stesso i problemi nascono quando la stessa stringa contiene degli apici ad esempio l'apostrofo perché mentre nel primo caso scusate python riesce facilmente a capire dove inizia e dove finisce la stringa inizia dove c'è il primo doppio apice finisce dove c'è il secondo e quindi l'apostrofo non dà problemi nella seconda invece si perché come fa a capire che python che la fine è questa e non questa non lo può fare quindi quando abbiamo degli apostrofi gli apici singoli possono creare dei problemi due possibilità usare sempre gli apici doppi che forse è quella che vi consiglio oppure usare un carattere di escape davanti all'apostrofo quindi il carattere di escape dice a python che il carattere che viene dopo è un carattere speciale da non considerarsi come fine della stringa se fate una cosa del genere quindi se usate l'apostrofo con gli apici singoli in questo modo ci sarà un'eccezione quindi o l'escape come mostrato lì oppure più facile usare sempre gli apici doppi possiamo avere anche stringhe lunghe che tengono più di una riga si definiscono con tre apici all'inizio tre apici al fondo anche qui doppi singoli fa lo stesso a patto di tenere in considerazione gli apostrofi i caratteri i caratteri in python sono delle stringhe ok non c'è differenza tra carattere singolo e stringa un carattere è una stringa di un carattere appunto posso accedere in modo posizionale ovviamente alle mie liste alle mie stringhe scusate e quindi qui questa print della variabile della stringa 6LO di 1 prenderà il carattere a posizione 1 che è la e quindi quello è l'indice all'interno della stringa e stampa e vabbè la funzione type l'abbiamo vista prima str e va bene concatenazione di stringhe l'abbiamo l'abbiamo vista attenzione si fa con la più attenzione però a questa cosa noi potremmo essere tentati di avere una cosa del genere avere una variabile nome chiamiamo python e una variabile versione 3.9 un numero quindi abbiamo le due variabili supponiamo di volerle mettere insieme avere python 3.9 che ci identifica il linguaggio come faccio? io potrei essere tentato di dire posso farlo direttamente nella print oppure definirmi un'altra variabile e poi stamparla risultato uguale potrei essere tentato di fare nome più versione giusto? e poi dire print risultato qual è il problema qui? esatto sto cercando di concatenare mele compare e python non sa più cosa fare perché nome è una stringa versione è un numero è infatti eccezione quindi questa più python non sa se interpretarla come una più delle stringhe che significa concatenazione o una più dei numeri che significa sommiamo i due numeri quindi attenzione quando fate la concatenazione di stringhe tutto deve essere una stringa quindi dobbiamo trasformare versione in una stringa come si fa con la funzione di conversione str c'è anche nelle slide ovviamente str prende un numero e lo converti in una stringa ovviamente c'è anche il viceversa c'è anche la funzione int ora non è il caso ma con la funzione int prendiamo una stringa e la traduciamo in numeri quindi a seconda del significato che ha per noi quella più lì dobbiamo capire bene se vogliamo concatenare stringhe o se vogliamo sommare dei numeri e a quel punto dobbiamo essere sicuri che entrambe le parti siano coerenti chiaro? python 3.9 adesso quel 3.9 è convertito in stringa vabbè il per 3 l'abbiamo già visto prima solo con la print si possono anche concatenare stringhe e addirittura numeri senza usare quell'estr lì con la virgola ma questa è una sintassi che funziona solo con la print se guardiamo l'esempio abbiamo due variabili a uguale 3 b uguale 5 che sono due numeri e possiamo stampare a virgola times una stringa che inseriamo direttamente lì virgola b virgola is eccetera e lui ci stampa 3 volte 5 e 15 mettendo addirittura già gli spazi per noi però questa sintassi funziona solo con la print ok? quindi se dobbiamo crearci una variabile non va vabbè questo è quello che abbiamo visto prima dell'str ci sono anche altri modi per creare una stringa questa è quella con l'interpolazione e con i placeholder è già più simile al c quindi abbiamo tra apici doppi percento di times percento di is percento di poi un secondo percento un altro percento e una tupla con i parametri e quindi quei parametri vengono poi sostituiti al percento di percento di percento di percento di evitiamo di fare la conversione con str dopodiché qualunque modo scegliate va bene anche qui c'è un esempio troverete un esempio sul sito del corso questo è un altro modo ancora per fare la stessa cosa va bene se siete curiosi guardatelo ma non è fondamentale dicevamo le stringhe sono immutabili quindi supponiamo di scrivere di definire una variabile con una determinata stringa mi accorgo di aver sbagliato qualcosa vedete c'è una k al posto di una l dico ok va bene cambio la k in l e no non si può fare perché le stringhe sono immutabili l'unica cosa che posso fare è ridefinire la stringa da zero e quindi dire 6 e lo uguale e lo in modo giusto se avete vi occorre vi occorrono altre operazioni sulle stringhe avete sempre la libreria la documentazione di python che vi fornisce un buon supporto per queste cose e potete consultarla in qualunque momento ok fatemi solo controllare quanto siamo distanti dal primo esercizio poco quindi direi facciamo ancora qualche slide poi facciamo una pausa e poi facciamo i primi esercizi abbiamo ancora due concetti fondamentali il primo è prendere un input dall'utente è abbastanza semplice si fa con la funzione input facciamolo live supponiamo di voler chiedere un nome all'utente allora possiamo usare la funzione input tra parentesi tonde scriviamo il messaggio che vogliamo dare all'utente per far sì che ci dia il nostro input desiderato ad esempio qual è il tuo nome questo è il messaggio che viene stampato sulla console provo a lanciare il programma allora vedete che la console mi ha stampato qual è il tuo nome e poi è ferma lì l'esecuzione è bloccata in quel punto il programma è fermo fin tanto che l'utente non digiti qualcosa e prema invio chiaro se io scrivo alberto e clicco invio ho dato il mio nome e vedete che il programma termina il programma è terminato perché non ci sono altre istruzioni dopo però potrei avere altre ora ovviamente questo input che io gli ho dato devo salvarmelo da qualche parte perché poi dovrò farci qualcosa e allora ci metto una bella variabile davanti nome uguale input ok in questo modo quello che digito qui prima dell'invio va a finire nella variabile nome quindi posso anche stamparla il nome è usiamo la notazione della print virgola nome riproviamo quindi fin tanto che non premo invio lui non stampa quando premo invio va avanti ad eseguire il codice questo è l'input cosa importantissima da ricordarsi dell'input è questa supponiamo di chiedere anche gli anni ok quindi prima domanda il nome Alberto anni 31 invio secondo voi di che tipo è anni esatto è una stringa occhio perché tutto quello che passiamo alla nostra input anche se è un numero è comunque salvato con una stringa quindi se io poi voglio fare delle operazioni su questa stringa ad esempio che ne so aggiungermi dieci anni speriamo di no ma e questo non funziona eccezione perché perché sto provando aggiungere un numero a una stringa che arriva dall'input quindi questo è il caso di fare il processo inverso di quello che abbiamo fatto prima mi arriva dall'input è un numero lo converto in numero con la funzione int la funzione di conversione int ok sì c'è una domanda potrei fare anche così come giustamente dice il vostro compagno mettere la int che racchiuda l'input è questo che volevi fare è questo che volevi fare ah sì te lo dico io funziona ok ha funzionato ora non ho stampato ma non ha dato eccezioni quindi ovviamente qui python richiede prima l'input e poi lo traduce in intero che voi lo mettiate qui o qui fa lo stesso va bene questo è quello che abbiamo visto l'ultimo concetto prima della pausa lo slicing anche qui tornerà molte volte all'esame ci sarà di sicuro quindi attenti data una stringa ma in generale qualunque sequenza possiamo sempre farne uno slice vuol dire estrarne un pezzo d'accordo quindi un range in questo caso di caratteri contenuti nella stringa stessa esempio anzi vediamo prima la teoria e poi facciamo l'esempio lo slicing si fa mettendo due parentesi quadre dopo la sequenza ma in queste due parentesi quadre non inseriamo un solo valore ma possiamo inserirne più di uno con dividendo questi valori con il due punti ad esempio se io sequenza aperte quadre start due punti end voglio andare a prendere tutti i valori tutti gli elementi di questa sequenza a partire da start fino a end ok quando start non è definito quindi quando ho vedete qui ho due punti end senza avere lo start lo slice parte dall'inizio e arriva fino a end viceversa quando start c'è ma non c'è end lo slice parte da start e finisce alla fine quando start e end non ci sono tutta la sequenza viene copiata ora facciamo subito un esempio ma un terzo parametro opzionale definisce lo step io potrei dire voglio il range di elementi di questa sequenza a partire da start che finisca a end a step di 2 cioè prendere solo di 2 in 2 se lo step è minore di 0 al posto di partire dall'inizio partiamo dal fondo allora è più facile se facciamo un esercizio cioè un esempio definiamoci una stringa ciao a tutti allora io potrei voler prendere ad esempio i primi 4 caratteri quindi la parola ciao voglio estrarre la parola la parola ciao dalla mia stringa come faccio semplicemente con uno slice quindi voglio stampare stringa tra parentesi quadre voglio i caratteri che partono dalla prima posizione quindi da posizione 0 e arrivano fino a posizione 3 attenzione primo trick dello slice da ricordarsi il parametro iniziale inclusivo il parametro finale esclusivo questo significa che se mettiamo 3 arriviamo a posizione 2 quindi per arrivare a posizione 3 devo mettere 4 ok proviamo un po' ciao ciao se mettiamo voglio solo controllare di aver fatto giusto si è chiaro questo questo trae molto in confusione quindi lo start è inclusivo quindi se ci metto posizione 1 partiamo proprio dalla 1 quindi dal carattere i infatti i a o inclusivo l'end è esclusivo quindi mettiamo sempre quello che c'è subito dopo a quello che ci interessa se non metto il primo parametro lui parte da posizione 0 ed è di nuovo ciao ovviamente se non metto neanche l'end lui parte dall'inizio e va fino alla fine quindi fa una copia della stringa ora supponiamo di voler prendere i caratteri a partire dall'inizio fino al fondo a 2 a 2 cioè saltandone sempre 1 in mezzo come faccio allora parto dall'inizio quindi posso anche non specificare niente arrivo fino in fondo posso non specificare niente 2 punti metto lo step vado di 2 in 2 vediamo cosa succede vedete prende il primo c poi ne salta 1 prende il secondo a c a poi ne salta 1 la o e prende quello dopo che è uno spazio infatti c'è lo spazio poi ne salta 1 e prende lo spazio e c'è di nuovo uno spazio poi ne salta 1 e prende la u ne salta 1 e prende la t ne salta 1 ed è finito quindi con lo step possiamo dirgli se saltare dei caratteri in mezzo ok se nello step ci mettiamo un numero negativo al posto di partire di fare tutto quello che ho fatto partendo dalla c partiamo dal fondo quindi secondo voi qual è il metodo più veloce per riversare una stringa cioè prendere una stringa al contrario esatto vedete con una semplicissima riga di codice questa qui io riesco a prendere una stringa al contrario immaginate farlo in c di nuovo dovreste scrivere n linee di codice qui con questo slice fate tutto in due secondi ok quindi estraiamo porzioni di una sequenza andando a dirgli dove partire dove finire eventualmente quanti saltarne in mezzo ricordarsi lo start è inclusivo l'end è esclusivo ok fatto questo l'abbiamo detto ok direi che possiamo fare un bel quarto d'ora di pausa e poi continuiamo ok torniamo a noi allora due eserciziati al volo a voce per vedere se avete capito e poi passiamo agli esercizi codici codice sullo slicing qual è l'output secondo voi allora partiamo da s1 ok abbiamo questa stringa hello word tutto attaccato con due maiuscole e dico che s1 è s uno slice di 8 1 meno 1 un po' strano un po' diverso da quello che abbiamo visto prima però potete arrivarci cosa stamperà ok la vostra compagna giustamente dice che iniziamo dal fondo perché c'è uno step negativo non saltiamo niente perché lo step è di 1 quindi li prendiamo tutti lei dice andiamo al contrario ma a partire da dove perché ultima l ok da posizione 8 inclusivo quindi va bene la l fino a fino alla e perché la e posizione 1 vediamo no va fino alla l prima perché va fino alla l prima solo perché è esclusivo ok l'end è esclusivo quindi funziona anche quando andiamo al contrario d'accordo vabbè poi se faccio la stessa cosa ma con step meno 2 ne salterò sempre uno in mezzo ma questo l'abbiamo visto il meno 4 meno 2 ecco questa è una cosa che non abbiamo visto non solo lo step può essere negativo quindi lo step negativo significa partiamo dal fondo ma poi start e end funzionano allo stesso modo se mettiamo invece un meno a start e end cosa succederà vediamolo stampiamo o r perché o r esatto partiamo dal fondo contando meno 4 per lo start 1 2 3 4 la o inclusivo meno 2 1 2 esclusivo quindi se conto 2 vado sulla l esclusivo prendo quello prima è chiaro? questi sono i vari modi di fare lo slicing anche qui esercizi del genere all'esame lo slicing ci sarà sicuramente in qualche modo vabbè queste sono le funzioni di conversione abbiamo visto come convertire un numero una stringa un numero un numero una stringa ovviamente si può convertire anche in altri modi possiamo ad esempio lo useremo convertire una lista in un set con la funzione set o viceversa convertire un set in una lista ma lo vedremo passo passo con gli esercizi ok finalmente il primo esercizio che vi lascio fare in autonomia non è ancora in laboratorio questo lo risolviamo insieme quindi vi lascio un po' di tempo poi lo risolviamo non c'è ancora PyCharm quindi fatelo in REPL va benissimo scrivere un programma che ah non l'ho detto all'inizio le slide sono in inglese spero non sia un problema ma comunque tutti concetti abbastanza facili da capire scrivere un programma che prende in input due stringhe dall'utente ok due stringhe e crea e stampa poi una nuova stringa no scusate crea e stampa due nuove stringhe in cui il primo carattere delle due stringhe è scambiato vediamo l'esempio che chiarifica tutto quindi se l'utente inserisce come due stringhe fu e bar l'output deve essere bu e far quindi il primo carattere delle due stringhe viene invertito questa è la richiesta se una delle due o tutte e due le stringhe sono vuote il programma deve stampare un messaggio d'errore e terminare è chiara la consegna? attenzione ovviamente lo diciamo dall'inizio questo programma è irrisolvibile in diversi modi e con diversi paradigmi cercate di risolverlo nel modo più funzionale possibile questo vuol dire utilizzando gli ingredienti che abbiamo visto fino ad adesso ok quindi questo programmino qui è risolvibile in modo funzionale diciamo in in python con una due righe di codice non di più vabbè se aggiungiamo anche l'input saranno tre quattro linee però è chiaro? vi lascio una decina di minuti per farlo in autonomia e poi proviamo a risolverlo insieme a risolverlo insieme a risolverlo insieme va bene per chi ce l'ha fatta come l'avete fatto? ok altrimenti ho fatto le print due print diverse la prima stringa 1 condizione 0 più la 2 dalla condizione 1 ok quindi l'hai fatto tramite degli slice giusto? qualcun altro che l'ha risolto con gli slice? perfetto sì questa era la soluzione più corretta diciamo così dal nostro punto di vista proviamo a farlo insieme anche per chi per chi magari non è riuscito a finirlo allora come diceva il vostro compagno ovviamente la prima cosa è prendere in input le due stringhe quindi ci definiamo due variabili all'interno di queste due variabili andiamo a inserire quello che ci digita l'utente quindi stringa 1 uguale input inserire la prima stringa due punti il programma starà bloccato lì fino a quando l'utente non digita la prima stringa facciamo lo stesso per stringa 2 input inserire inserire la seconda stringa due punti allargo un po' solo per perché sia più leggibile ok arrivato in questo punto devo controllare l'input perché è importante controllare l'input e in particolare che le due stringhe non siano vuote perché se poi io provassi a fare delle operazioni su delle stringhe vuote il programma mi darebbe eccezione e si fermerebbe le eccezioni sono una cosa ovviamente da evitare il più possibile e il primo modo per farlo è controllare che l'input sia valido ecco nel nostro caso valido vuol dire che le stringhe ci siano allora il vostro compagno ha suggerito di controllare la lunghezza delle stringhe con la funzione len va bene l'alternativa è come abbiamo visto prima una stringa vuota è valutata come falsi e quindi posso valutare direttamente la variabile senza utilizzare la funzione len dopodiché vanno bene entrambe le soluzioni quindi mi interessa che entrambe direi le stringhe siano non vuote giusto? quindi se tutte e due sono vuote o anche se solo una delle due è vuota è un problema quindi questo anche solo delle una delle due mi fa mi fa pensare a una or quindi se stringa 1 è vuota oppure stringa 2 è vuota non posso continuare e allora posso farlo dicendo if not stringa 1 or not stringa 2 è chiaro questa if è chiara questa if questa condizione sto dicendo se not stringa 1 viene valutata vera quando stringa 1 è falsa perché c'è una not quindi stringa 1 è falsa quando è vuota quindi se stringa 1 è vuota oppure stringa 2 è vuota problema stampiamo un messaggio ad esempio con una print print devi inserire le due stringhe ho dimenticato gli apici altrimenti se sono nella else tutte e due le stringhe sono piene e io posso lavorarci sopra ovviamente nel modo imperativo potrei usare boh un ciclo for fare cose strane eccetera abbiamo visto che c'è lo slice tanto comodo e come suggeriva il vostro compagno per crearmi una stringa in cui il primo carattere è modificato posso prendere questo primo carattere dall'altra stringa e concatenarlo con lo slice della stringa che va da posizione 1 quindi escludendo il primo carattere originale fino alla fine quindi print allora qui abbiamo la prima stringa a cui dobbiamo metterci in testa il carattere della seconda stringa come faccio a prendere il primo carattere della seconda stringa accesso posizionale stringa 2 di 0 ok più la stringa 1 tolto il primo carattere e vabbè allora faccio stringa 1 a partire da posizione 1 inclusiva fino alla fine quindi due punti posso anche non mettere niente quindi questo mi prende il primo carattere della 2 e lo concatena con tutto quello che c'è in stringa 1 tranne il primo carattere e vabbè e per fare l'inverso con la stringa 2 faccio la stessa cosa mettiamo una virgola per stampare le due cose e dico stringa 1 a posizione 0 più stringa 2 a partire da posizione 1 fino al fondo vediamo un po' inserire la prima stringa se lascio vuoto la prima ad esempio mi stampo un errore e termina rilancio inseriamo bar e fu come nell'esempio far e v funziona vedete con una singola linea di codice principale ho risolto l'esercizio domande ritornerà spesso questa cosa come ho detto prima tutti i programmi gli esercizi che vedremo sono risolvibili in n modi diversi tra cui il modo imperativo quindi potete raggiungere lo stesso risultato anche con altre tecniche all'esame vi sarà richiesto di sviluppare gli esercizi nel modo più funzionale possibile python è un linguaggio multiparadigma permette di fare permette di fare di implementare più paradigmi però all'esame vi è richiesto di farlo in modo funzionale se risolvete l'esercizio in modo imperativo l'output è corretto certo magari non prendete zero punti perché l'output è corretto però non prendete neanche il massimo ok quindi dobbiamo cercare di sforzarci a ragionare in modo funzionale questo non è ancora lo slice non è ancora associabile veramente al paradigma funzionale vedremo poi dalla terza lezione in avanti gli ingredienti fondamentali però lo slice è sicuramente uno strumento utile che ci permette di ridurre le linee di codice se non ci sono domande continuiamo a fare esercizi ma adesso ci focalizziamo sul laboratorio quindi da adesso in poi lavorerete in autonomia ovviamente potete anche confrontarvi tra di voi io girerò sono qui comunque per eventuali domande quindi chiedete pure non li risolviamo insieme ma tra circa una settimana pubblicherò poi le soluzioni degli esercizi dove trovate questo laboratorio sempre sul sito del corso nella sezione funzionale vedete abbiamo python basic dove ci sono le slide che stiamo vedendo vedremo finiremo la prossima volta e poi la sezione laboratori dove c'è python intro che è quello relativo alla lezione di oggi lo vado ad aprire è giusto per introdurvelo abbiamo quattro esercizi in cui i primi sono veramente facili quindi il primo chiede di chiedere di scrivere un programma che chieda due numeri l'utente li sommi e stampi il risultato semplicissimo il secondo più simile a quello che abbiamo fatto adesso data una stringa creare e stampare un'altra stringa ok composta da i primi due caratteri e gli ultimi due quindi prendiamo una stringa e prendiamo solo i primi due caratteri e gli ultimi due li uniamo insieme facciamo una nuova stringa e la stampiamo c'è anche un esempio per controllare se il vostro programma funziona anche qui se la stringa è più corta di due caratteri o stampiamo un messaggio di errore oppure stampiamo la stringa vuota fa lo stesso l'esercizio 3 data una stringa creare e stampare una stringa un'altra stringa che non abbia i caratteri a posizione dispari d'accordo? quindi ad esempio la parolina winter se io scrivo winter il programma dovrà stampare wne quindi il carattere a posizione 0 il carattere a posizione 2 e il carattere a posizione 4 mentre tutte le posizioni dispari 1 vengono tranciate via anche qui se la stringa è vuota stampare un messaggio di errore ultimo esercizio scrivere un programma per convertire i penni in dollari e centesimi quindi il programma chiede all'utente un numero quanti penni abbiamo e stampa la divisione corrispondente in dollari e centesimi ad esempio se io scrivo 1729 penni dovrò stampare che ho 17 dollari e 29 centesimi d'accordo? visto che non abbiamo ancora PyCharm di nuovo fatelo pure in REPL direi che ci sono due alternative o vi create quattro progetti diversi uno per esercizio d'accordo? oppure fate il primo esercizio nel file main lo scaricate per tenerne traccia e cancellate tutto fate il secondo è uguale il problema di REPL è un po' limitato non potete avere mi pare più di un file cioè potete avere più di un file ma poi viene lanciato sempre il main quindi forse vi consiglierei di queste due strade d'accordo? quindi ora abbiamo solo più un'ora un quarto ma iniziate adesso sono abbastanza facili magari li finite anche di oggi e se avete dubbi e domande chiedete pure grazie 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 grazie